Nonostante i buoni propositi, la storia si ripete e sul porto il Consiglio Comunale finisce per dividersi. La maggioranza ribadisce il percorso descritto in conferenza stampa dal sindaco Sollazzo. Il gruppo per una Diamante Migliore continua ribadendo che questo è l'unico porto possibile e che il Comune deve stipulare il mutuo per adempiere i propri compiti, mentre Diamante Futura spara a zero invocando l'intervento della magistratura per svelare gli interessi occulti, gli atti illegittimi e tornare così in possesso della paternità dell'opera. La sintesi delle posizioni è tutta qua, ma qualche dettaglio è doveroso. Sul mutuo per esempio è stato chiarito che lo si potrà contare soltanto dopo il decreto del Dipartimento dei Lavori Pubblici che sancisce il definitivo via libera all'inizio dei lavori, secondo il nuovo piano economico che prevede il prolungamento della concessione per altri 15 anni. Si passa quindi da 30 a 45 anni di gestione. Il mutuo che sarà totale carico della Regione dovrà essere contratto dal Comune e inserito nel prossimo bilancio da approvare entro la fine del mese di maggio. Condizione per accendere il mutuo e scriverlo nel bilancio è che il Dipartimento e i Lavori Pubblici emani il decreto nel prossimo mese e mezzo. Molti hanno incrociato le dita. Per il gruppo Diamante Futura la storia invece è un'altra ed è una storia che racconta i soprusi del privato, una storia in cui viene tirata in ballo la massoneria, il malaffare, la politica e la magistratura. Un privato che ha cambiato autonomamente le carte in tavola, sospendendo i lavori e arrogandosi il diritto di cambiare progetto. Un privato che, secondo il gruppo Diamante Futura, ha previsto un incremento del finanziamento regionale di circa 2 milioni 500 mila euro per la ristrutturazione di beni immobili di proprietà comunale con la complicità degli uffici regionali. Insomma Diamante Futura è sul piede di guerra e vira verso il contenzioso contro il privato. Per una Diamante migliore invece per controllare tutte le fasi del percorso stabilito al tavolo tecnico dello scorso 9 febbraio, l'amministrazione è intenzionata a continuare quel percorso ritenuto l'unico possibile per sbloccare la situazione senza esasperare gli animi ed evitando fratture che già nella storia della città sul tema porto hanno condotto a dilatare i tempi in maniera biblica. Giusto per tenere il conto è bene ricordare che dal 99 anno della giudicazione del bando sono già passati la bellezza di 17 anni. Se ne dovrebbe sapere di più già nella giornata di domani quando scadrà il termine entro il quale il responsabile unico del procedimento deve esprimersi sul nuovo schema di convenzione proposto dal privato. Il piano economico è stato dunque presentato anche se in consiglio si è accennato soltanto al prolungamento del periodo di gestione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.